Evidenziamo adesso uno dei tab, quello selezionato, con uno style differente applicando quindi una classe differente rispetto a quella di default quindi andremo ad applicare in questo specifico esempio nella nostra tabar che andiamo ad aprire nella cartella components tabar oltre che la classe btn andiamo ad applicare btn per esempio success eccola qua ok in questo modo vedrete adesso i tab in verde quello che vogliamo fare noi chiaramente è mostrare in verde solo l'elemento selezionato quindi se selezioniamo USA andiamo ad evidenziare in verde solo questo elemento lasciando in grigio gli altri quindi non utilizzeremo quindi un approccio hardcoded ma utilizzeremo la direttiva energy class fornita dal framework che ci permette sostanzialmente di impostare un oggetto di chiavi valori dove la chiave è la classe che vogliamo applicare in questo caso btn success il valore è un booleano sostanzialmente che deve essere chiaramente true e false ovviamente in caso di true la classe verrà applicata nel caso di false come vedete qui adesso la classe verrà rimossa è chiaro che in questo modo andiamo ad applicare btn success sostanzialmente a tutti gli elementi clonati grazie alla direttiva energy repeat energy for scusate mi refuso di angular 1 e sostanzialmente quello che dobbiamo fare invece adesso è fare in modo che questa condizione qui sia true solo nel momento in cui solo anzi per quell'elemento per quel button che effettivamente è quello selezionato quindi quello che andremo a fare adesso è qui nell'item click handler che è una funzione invocata ogni qual volta un elemento, un tab viene selezionato andremo a salvare il nostro tab in una proprietà della nostra classe chiamata active che andiamo poco prima a definire e che sarà di tipo country in questo modo active conterrà una reference al tab selezionato quindi la nostra condizione energy class sostanzialmente potrà semplicemente fare un check tra active.id e con sostanzialmente il tab su cui stiamo ciclando tab.id ricordo che qui sostanzialmente il nostro modello di dati è composto da una struttura è composta da una proprietà id, una name, l'at e la lng quindi qui vediamo un attimo un errore l'errore che adesso abbiamo è cannot read property id of undefined sostanzialmente ci sta dicendo che non può sostanzialmente leggere non trova la proprietà id su un oggetto undefined che è active questo perché active inizialmente non ha nessun valore quello che potremmo fare adesso è inizializzare active a un valore di default ma in realtà non è quello che ci interessa come risultato finale perché non avrebbe nessun senso e non avrebbe nessun senso per quello che andremo a fare poi oppure si può utilizzare una chicca di typescript ovvero il punto di domanda che serve per rendere opzionale sostanzialmente il facoltativo un parametro di conseguenza può essere usato per rendere il facoltativo un parametro o nel caso di template può essere utilizzato proprio per evitare questo genere di errori quindi se active adesso salviamo e undefined vedrete che qui adesso l'errore non ci sarà più ok perfetto quindi è diventato opzionale benissimo in questo caso sostanzialmente cosa abbiamo fatto e notate che funziona adesso l'applicazione dello style btns access abbiamo semplicemente creato un componente stateful il cui stato sostanzialmente interno quindi una sorta di smart component un componente che ha una minima di logica interna quello che vogliamo fare invece però è creare un componente stateless chiamati anche dump component questi componenti sostanzialmente sono i più adatti per essere integrati successivamente in un'architettura Redux che chiaramente non è oggetto di questo tutorial ma in tutta onestà se dovendo consigliarvi un approccio quello che mi sento di fare è già di andare in quella strada un componente sostanzialmente il cui stato può essere diciamo comandato, pilotato, deciso dall'esterno deciso dall'esterno attraverso le proprietà di input-output in realtà solo quelle di input in questo specifico caso quindi quello che andiamo a fare adesso è far diventare il nostro active un input togliamo questo salvataggio della proprietà active questo aggiornamento della proprietà active all'interno del componente stesso e siccome il nostro componente comunque mette un evento on tab click che viene sostanzialmente ascoltato, sottoscritto dal nostro template tab component vedete qui dove utilizziamo tab bar e gmap la tab bar ad ogni click invoca update map update map sostanzialmente salva il tab corrente in current e quindi questo current praticamente rappresenta già il nostro active torniamo nel template html e qui nella tab bar sostanzialmente andiamo a passarli active con il valore di current quindi vedrete adesso che già Italia è selezionato di default perché se torniamo nella type script vedrete che nel costruttore current è valorizzato di default al primo elemento di countries di conseguenza la nostra tab bar riceve quindi il primo elemento e questa condizione qui chiaramente viene applicata e true per il primo elemento quindi